ciao sono lucia piana di ambasciatori dei mieli e questo è un video per presentarne altri ogni video parlerà di un miele che ambasciatori dei mieli è un'associazione nata già da decina di anni e che ha come obiettivo quello di promuovere divulgare il più possibile il mondo delle api e il mondo del miele per far scoprire a tutti cosa c'è di bello in questi aspetti ai più sconosciuti i video parleranno di miele ogni video avrà per soggetto un miele ed è affidato a un nostro socio assaggiatore dello stesso territorio in cui si produce quel miele il video rappartirà dal territorio dove il miele prodotto per arrivare fino all'utilizzo passando attraverso le caratteristiche sensoriali cioè quello che si può percepire con i nostri sensi cioè l'assaggio i nostri soci che ne parleranno sono socio assaggiatori cioè persone che sono iscritte all'albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele che è un elenco ministeriale che certifica che queste persone hanno seguito un determinato percorso formativo hanno acquisito esperienze hanno dimostrato l'acquisizione di questa esperienza attraverso uno specifico esame per cui speriamo che questi video siano di vostro gradimento e che vi facciano scoprire magari qualcosa che non conoscevate ancora buon miele a tutti grazie 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 grazie